Parliamo adesso di un aspetto fondamentale per la formazione di ogni identità e che già stava implicito in quello che abbiamo appena detto, e cioè l'idea che l'intercultura è una regola costante di tutte le culture. Non c'è identità culturale che non sia il riflesso, il risultato e anche la causa di sempre nuove relazioni interculturali. Possiamo allora comprendere come ogni identità sia anche, in realtà, una diversità. Ogni identità rimanda a una componente relazionale contestuale in cui ognuno occupa una posizione diversa da quella degli altri. Ci si trova così sempre tutti between, cioè sempre tutti tra diverse identità e situazioni sociali. Un'esperienza chiave della nostra formazione come esseri umani che crescono col passare del tempo è l'incontro con altri esseri umani diversi da noi. Tale diversità può acquisire gradazioni diverse, andando dalla relazione col coetaneo e con nazionale fino alla relazione con lo straniero che parla un'altra lingua, lo sconosciuto. Attraverso gli incontri con tali diversità capiamo di essere un po' come gli altri, ma anche radicalmente distinti. Possiamo dire che gli incontri mettono in moto un doppio processo, che è un processo di distinzione e riconoscimento, di approssimazione all'altro e di affermazione della propria singolarità. Dipende a chi qui, dipende sempre dal contesto e dalla storia che ogni cultura porta con sé. Che tipo di reazione prevarrà, se l'interazione risulterà cioè più o meno ricca, più o meno curiosa o più o meno rispettosa. È anche per questo che l'identità è un'esperienza culturale che si costruisce attraverso dei passaggi cadenzati che le società di riferimento organizzano. Sono quei cosiddetti rituali di passaggio. Che questi siano organizzati attraverso cerimonie pubbliche o rituali tribali, per mezzo di azioni e pratiche istituzionalmente codificate o informalmente condivise e riconosciute dai gruppi di riferimento. I passaggi che scandiscono la costruzione identitaria degli individui coinvolgono sempre il singolo e il gruppo di riferimento. Esperienze che sono condivise queste a tutte le latitudini, ma che nei codici, nelle opportunità offerte, variano da cultura a cultura. Infatti, sapendo come storicamente i gruppi umani come le famiglie, le tribù, i partiti, i movimenti sociali, le corporazioni, le federazioni, come tutti questi gruppi tendono spesso a costituirsi autoproclamandosi come unici e incomparabili, hanno cioè una maniera iniziale di definirsi proiettando all'esterno un'idea di sé che corrisponde a una immaginaria eccezionalità, bisogna considerare allora come possano crearsi facilmente le condizioni per uno scontro tra culture, piuttosto che un incontro fruttuoso. Se l'identità culturale del singolo può essere più flessibile, quella dei gruppi, al contrario, soffrono un'inerzia maggiore al cambiamento. Nonostante l'antropologia ci abbia insegnato come ogni identità di gruppo prenda origine da una rappresentazione di sé, potremmo dire da una fiction utile e necessaria per la propria costruzione identitaria, bisogna lo stesso valutare come tale tendenza ad istituirsi attraverso una certa narrativa sulla propria differenza sia un processo presente in tutte le culture e molte volte funzionale a svolgere un ruolo di biglietto da visita per poter negoziare meglio la propria relazione con ciò che sta intorno. Tali processi antropologici e psicosociali sortiscono sempre un effetto di contesto e individualizzazione al tempo stesso, dove ancora una volta, dipendendo dall'etica culturale che li orienta, possiamo sentirci promotori di contesti aperti allo scambio e all'interazione, oppure possiamo sentirci il risultato di una ingiuzione sociale operata dal gruppo, eventualmente contro altri gruppi. Rimane il fatto che l'identità di ognuno corrisponde alla definizione della propria differenza rispetto all'altro con cui ci si confronta, sia nelle relazioni tra singoli che tra culture. Da questa prospettiva capiamo quanto possa essere sfortunato un gruppo culturale quando soffre l'isolamento. Capiamo anche quanto sia insano, oltre che impensabile e ingenuo promuovere una cultura dell'isolamento. Senza scambi e intrecci, le culture che si vorrebbero compatte non riescono a definirsi e tradurre in qualcosa di originale, riproducendosi invece sempre come un déjà vu. A guardar bene la storia delle migrazioni, la storia dell'economia, dell'antropologia, l'archeologia, la stessa paleontologia, ci raccontano che gli uomini non hanno mai smesso di migrare e di entrare in contatto con culture diverse dalla propria. L'idea stessa che esistano tribù isolate e incontaminate è più un mito che una realtà storica, e anche quando si sono scoperte delle culture remote con caratteristiche plurisecolari, si è anche scoperto che tali gruppi erano ben consapevoli di non essere unici sulla terra, sapevano dell'esistenza di altri gruppi attorno a sé, lontano, vicino, ma ad ogni modo di altri gruppi. Da queste considerazioni possiamo concludere che le storie degli uomini e delle culture sono sempre storie di movimento e quindi di intercultura. Storie che possono spaventare, ma anche essere lentamente traghettate verso nuove elaborazioni etiche e sociali. Anche respingere e negare lo straniero significa paradossalmente confermare quanto sia difficile ignorare chi non ci rispecchia, chi non ci somiglia. Tale negazione condiziona lo stesso l'atteggiamento culturale di chi vorrebbe pensarsi svincolato da ciò che lo circonda. Possiamo parlare di più livelli di intercultura. Abbiamo per esempio una intercultura che potremmo definire passiva, che è quella che si riflette in noi, nel vissuto del nostro quotidiano, senza che gli si dia troppa attenzione o che si tenti di frenare il corso degli eventi. Abbiamo poi un'intercultura che possiamo definire riconoscitiva, che si sorprende cioè dei cambiamenti e delle differenze culturali, cercando di trarne significati e insegnamenti. Abbiamo un'intercultura che potremmo chiamare elusiva, che per un senso di disagio e in preparazione evita il confronto con l'emergere di novità culturali, per timore che creino dissonanze irreversibili. Abbiamo infine un tipo di intercultura contrastiva, che fa dell'autoaffermazione contro la diversità il proprio credo morale, come se si fosse naturalmente rappresentanti di ciò che è immaginato essere giusto e come se si fosse proprietari assoluti dei eventuali privilegi locali e transitori offerti dalla storia. Grazie a tutti.